Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, oggi pomeriggio due cortei in città, in centro da Piazza Vittorio a Porta Pia, al quadraro da Largo Spartaco a Piazza Cardinali, chiusure al traffico e deviazioni per i bus e per i tram 5 e 14, dettagli e aggiornamenti su romamobilità.it, sempre oggi pomeriggio ancora in centro, manifestazione politica a Piazza del Popolo, possibili chiusure al traffico anche su Via del Corso, Via di Ripetta e Via Ferdinando di Savoia e possibile deviazione per la linea di bus 119.